novità a milano apre un hard rock caffè la popolare catena di ristoranti hard rock caffè aprirà una filiale a milano in centro la data di inaugurazione ufficiale del momento non è ancora stata comunicata sarà il quinto hard rock caffè italiano dopo quelli di roma venezia firenze e verona la catena hard rock caffè è stata fondata a londra nel 1971 da isaac tigrit e peter morton e attualmente conta 180 ristoranti attivi nel mondo oltre che a 24 hotel e 11 casinò i locali che non ospitano spettacoli di musica dal vivo possono però contare su una ricca collezione di cimevi appartenuti alle più grandi rock star della storia della musica grazie a tutti grazie a tutti